scuola arriva un autunno di demolizioni e ricostruzioni sbarcati ad ancona altri 68 migranti soccorsi in mare lavori conclusi allo stadio venelli la vis può tornare a casa baia flaminia sempre più osi per le tartarughe sport e cultura arriva battiti festival buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è giovedì 14 settembre apriamo questa edizione occupandoci delle scuole pesaresi dopo il ritorno sui banchi avvenuto ieri a breve si intensificheranno anche diversi cantieri di edilizia scolastica con tre istituti nella città che saranno demoliti per poi essere ricostruiti vediamo ieri il rientro sui banchi di scuola per migliaia di studenti pesaresi scuole in cui però non hanno mai smesso di agire tanti operai al lavoro sui vari cantieri di edilizia scolastica sparsi per la città entro la fine del 2023 saranno infatti tre le demolizioni scolastiche per altrettanti edifici da ricostruire ex novo un piano di lavori già cominciato in piena estate con la demolizione della scuola materna scarabocchio di via rigoni sullo stesso terreno in cui sorgerà il nuovo polo dell'infanzia 0 6 anni grazie a 3 milioni e 700 mila euro di fondi PNRR esattamente di fronte alla grande opportunità offerta anche grazie alle risorse del PNRR di fare investimenti davvero storici direi sull'edilizia scolastica che ci consentiranno di avere presto tre nuove scuole la scarabocchio l'anna franca e anche anche la dante alighieri se lo scarabocchio è già stato demolito portando da ieri bambini e famiglie a migrare sulla sempre più popolata area didattica di viale trieste in pieno auturno partirà invece la rimandata demolizione della dante alighieri i cui studenti sono trasferiti a pesaro studi già dallo scorso anno da ieri sono invece alloggiati temporaneamente nel centro civico di vismara gli alunni della scuola primaria anna frank la cui demolizione è attesa per novembre a vismara dove l'ex sede diciamo del quartiere della circoscrizione è diventata uno spazio davvero anche moderno se vogliamo con delle divisioni con delle pareti mobili attrezzate trasparenti quindi anche secondo le nuove modalità didattiche abbiamo rifunzionalizzato l'anna frank intanto soria sul terreno dell'ex carabocchio si prepara a vedere sorgere un nuovo nido e una nuova scuola dell'infanzia che lo scarabocchio sono già partiti i lavori come avrete immagino avuto modo di vedere sono partita di fatto si sta concludendo la demolizione della vecchia scuola a breve poi partirà proprio la realizzazione di una nuova scuola anche lì una scuola al top dell'efficienza della sicurezza quindi una scuola tutte scuole sul modello brancati per intendersi quindi grandi grandi interventi di efficientamento energetico di sicurezza sismica e davvero scuole moderne innovative e funzionali ed ora cambiamo argomento le immagini che vi stiamo mostrando si riferiscono al porto di ancona dove questa mattina c'è stato un altro sbarco di migranti soccorsi nel mediterraneo a largo della libia si tratta di 68 persone fra i quali figurano tre minori non accompagnati e un uomo ferito per colpo da arma da fuoco al momento risultano già sature le strutture d'accoglienza anconetane motivo per cui i profughi verranno accompagnati in centri dedicati fra Umbria e Molise ed ora parliamo di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina a Orciano nel comune di Terre Roveresche dove c'è stata una collisione tra un autobus e un'automobile che si è rovesciata in prossimità delle mura del borgo a bordo della vettura c'erano due persone un uomo e una donna rimasti feriti gravi le condizioni di quest'ultima che è stata trasportata in elisocorso all'ospedale Torrette di Ancona mentre l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso di Fano da chiarire ancora la dinamica dell'incidente che è al baglio della polizia Nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo raccontato del ritrovamento del corpo senza vita in Puglia di Brunella Chiù, tredicesima vittima dell'alluvione nelle Marche un'alluvione in cui proprio domani 15 settembre ricorre il primo anniversario in piazza Luceoli di Cantiano, il borgo più danneggiato della provincia di Pesaro Urbino ci sarà proprio domani infatti una commemorazione che dalle 18 sarà seguita anche dalle nostre telecamere è previsto un confronto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione post alluvione e un momento di ringraziamento del comune di Cantiano a tutti coloro che in questo anno hanno espresso forme di sostegno e vicinanza al paese travolto dalla calamità naturale e dopo due mesi si sono conclusi i lavori avvenuti allo Stadio Benelli che hanno visto ricostruire il manto erboso dell'impianto dopo decenni di decadimento oggi è arrivato l'ok quindi per riportare a Pesaro la vis la vis Pesaro si prepara a rientrare nella sua casa allo Stadio Benelli è stata completata la rigenerazione del manto erboso dell'impianto sportivo con un nuovo fondo sintetico sul quale sarà attuabile in un secondo momento anche una coesistente semina di erba naturale oggi allo Stadio rappresenta la commissione criteri infrastrutturali della FIGC la cui relazione accenderà il semaforo verde all'omologazione del campo consentendo alla vis di rientrare al Benelli alla sesta giornata del campionato di Serie C ovvero per Visfermana partita che è stata calendarizzata per la serata di lunedì 2 ottobre Vis che tornerà a casa dopo due turni di trasloco a Recanati il primo già giocato con l'Olbia il secondo da disputare martedì con Lentella i lavori sul quale il comune ha investito 900.000 euro sono partiti a giugno attraverso la ditta appaltatrice abruzzese del Fino Sport che ha rispettato il cronoprogramma di consegna del lavoro concluso al 13 di settembre questo qui è l'ultima generazione di manti sintetici ovvero sono manti sintetici con intasi prettamente organici che possono essere anche trasformati in live cioè possiamo anche in futuro seminarlo se vogliamo quindi avere un terreno di gioco con un supporto sintetico e un'erba naturale in questo momento si giocherà su sintetico però volendolo si può anche rendere naturale è un sottofondo a drenaggio verticale quindi assorbe tutto il campo l'acqua piovana non è uno scorrimento laterale quindi non si avranno più problemi di acqua di allagamenti e di altro di sospensione di partite oltre a risolvere il problema di drenaggio di un terreno esausto allo stadio sono anche state rifatte in maniera interrata le panchine ai margini del campo da gioco e una serie di opere accessorie minori che verranno completate a giorni un pacchetto di interventi concluso che la vispesero presenterà assieme al comune martedì 26 settembre nella sede della provincia di pesaro e urbino è stato siglato oggi un protocollo d'intesa fra l'unione delle province marchigiane e gli ordini regionali degli architetti volto alla tutela della paesaggistica del nostro territorio allora vediamo in questo prossimo servizio di cosa si tratta l'unione delle province marchigiane e la federazione regionale degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori hanno firmato oggi in provincia di pesaro urbino un protocollo d'intesa votato alla formazione obbligatoria per gli iscritti agli ordini professionali nel territorio regionale e per i dipendenti delle cinque province un documento siglato dal presidente di upi marche della provincia di pesaro urbino giuseppe paolini e da viviana caravaggi vivian coordinatrice di federarchi marche il protocollo con validità di cinque anni avrà l'obiettivo di valorizzare la formazione continua dei dipendenti delle province oltre a intensificare una collaborazione fra gli enti in merito a temi quali tutela del paesaggio e gestione del patrimonio paesaggio ed edilizia pubblico privata prevenzione del rischio sismico e opere pubbliche d'emergenza abbiamo voluto fortemente intraprendere una strada la strada che possa creare delle opportunità attraverso anche e soprattutto una formazione una formazione di qualità una formazione che non informi ma che formi e questo naturalmente attenzionando anche le esigenze degli enti le esigenze fa bisogno degli enti ma anche e avendo una cura per crescere la professionalità degli architetti e per questo che insomma abbiamo proposto come federazione architetti marche il fatto di siglare un protocollo per la formazione che possa appunto creare opportunità anche di lavoro per i nostri colleghi tutto il mondo è stato creato da un grande architetto dobbiamo continuare con gli architetti a mantenere la bellezza del nostro territorio abbiamo visto degli scempi nel nostro territorio che sono incredibili per cui credo che con una sinergia tra gli architetti e le classi politiche le classi amministrative dobbiamo fare in modo che questo territorio venga tutelato al massimo perché è già troppo quello che abbiamo fatto per cui questa firma di questo protocollo porterà della formazione porterà a una stretta collaborazione con l'ordine degli architetti e per fare quello che una volta era il libro che avevamo stampato farla mantenere una provincia bella Ed ora parliamo di un altro accordo in questo caso un accordo fra l'ordine degli ingegneri e la biblioteca Oliveriana un accordo che produce una nuova rassegna culturale Oggi presentiamo questa rassegna che abbiamo realizzato insieme all'ordine provinciale degli ingegneri di Pesaro Urbino che ci hanno coinvolto per organizzare una serie di appuntamenti legati alla storia, alla cultura e soprattutto all'infrastruttura della nostra provincia quindi non solo Pesaro ma anche altre città tra cui Fano, Fossombrone, Urbino, Cagli che sono appunto poste sotto l'attenzione di questo sguardo particolare degli ingegneri che vogliono approfondire la parte storica ma nello stesso tempo anche la parte delle vicende che hanno riguardato le più importanti infrastrutture del nostro territorio Questa è una rassegna che si rivolge non a un pubblico soltanto specialistico degli ingegneri ma anche a tutto il pubblico che può essere interessato a conoscere meglio e anche a scoprire qualcosa di nuovo che appunto vuole approfondire la propria storia, il proprio passato con uno sguardo comunque sempre rivolto al futuro come poi dimostra anche l'ultimo appuntamento di questa rassegna che si occuperà di astrofisica quindi veramente con un occhio veramente attento al futuro che ci aspetta È una rassegna culturale che ha voluto fortemente il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri da me presieduto ed è un'iniziativa che volta alla conoscenza del territorio un'iniziativa che ovviamente abbiamo avuto la grandissima collaborazione da parte di Dentro Olivieri che ringraziamo perché ovviamente ci ha dato tutto il supporto necessario perché questa iniziativa insomma potesse avere luogo e soprattutto è un'iniziativa che ha ottenuto comunque il patrocino già del Comune di Peso dei diversi comuni perché sarà un percorso itinerante nell'ambito del territorio e abbiamo avuto anche il logo di Peso 2024 Città Italiana della Cultura è voluta fortemente perché ovviamente noi siamo un ordine provinciale rappresentiamo un territorio quindi gli eventi si svolgeranno principalmente nei tre diversi luoghi rappresentativi della nostra provincia Fano, Urbino e Pesaro si parlerà soprattutto di temi che sono legati al nostro patrimonio storico, culturale e anche a quelle che sono tutte anche tra virgolette la salvaguardia del nostro patrimonio Questa è una di quelle attività che noi organizziamo ormai da un po' che ha proprio la volontà di arrivare sempre più persone anche quelle che di solito non frequentano le attività culturali o le conferenze oppure frequentano poco gli ambienti della cultura ma che possono essere però incuriositi proprio perché c'è una modalità diversa del racconto e nel farlo abbiamo sempre presente quello che è stato il lascito testamentario del nostro fondatore di Annibale Olivieri che appunto ha lasciato tutte le sue collezioni alla città di Pesaro alla comunità perché i cittadini fossero sempre più culti ed operosi e noi proprio secondo questa sua volontà cerchiamo di organizzare le nostre iniziative Ed ora con le nostre telecamere ci spostiamo a Baiaflaminia sempre più terra di tartarughe oggi è stato rilasciato in mare l'ennesimo esemplare curato dalla fondazione Cetacea Dopo il rilascio della tartaruga Giunone le acque di Baiaflaminia in poco più di un mese hanno accolto un secondo rettile è stato oggi il turno di Laura una piccola caretta caretta di 25 centimetri e di circa tre anni di età affidata al suo habitat naturale dopo essere rimasta in cura per un anno e mezzo al centro di recupero tartarughe marine di Riccione si tratta di un centro gestito da fondazione Cetacea che nel marzo 2022 seguendo da vicino l'abbassamento improvviso della temperatura marina ha captato lo stato di ipotermia in cui versava la piccola tartaruga bloccata da una paralisi alle pinne anteriori dopo un lungo percorso di fisioterapia terminato con un periodo presso la caletta per la riabilitazione di Pesaro Laura ha ripreso l'utilizzo delle pinne anteriori in maniera coordinata dimostrando di poter vivere libera nel suo ambiente naturale ambiente al quale si è oggi riaffacciata fra la curiosità degli alunni di alcune scuole primarie di Pesaro e sotto l'occhio attento delle comune rappresentato oggi dagli assessori Conti e Vimini è una giornata che è stata organizzata per da una parte far vedere ai ragazzini delle scuole il lavoro che noi facciamo cioè la fondazione Cetacea cura le tartarughe marine ma non solo, si occupa del mare e della sua salute e quindi quando abbiamo un risultato come questo di Laura ci piace condividerlo soprattutto con le nuove generazioni perché sono i più ricettivi e raccolgono di più il messaggio il messaggio è molto semplice noi siamo come loro, siamo parte dalla natura e abbiamo l'obbligo di offrire la nostra assistenza a chi sta male in natura l'abbiamo portata qui alla caletta per fare fisioterapia in acqua di mare ed è cambiata in modo radicale cioè da una tartaruga molto immobile poco motiva a una tartaruga invece molto veloce molto abile molto capace di muoversi e quindi abbiamo deciso di liberarla proprio qui a Baia Flaminia dove appunto la caletta delle tartarughe ogni anno offre la possibilità di ridare la salute degli animali per poterli rimettere poi in mare Il Comune di Pesaro attraverso l'assessore Francesca Frenquellucci ha ringraziato e premiato oggi in municipio 5 raggruppamenti di attività economiche della città che in questi anni hanno saputo realizzare centri commerciali naturali creando opportunità di intrattenimento convivialità e sviluppo dell'artigianato locale a ricevere il simbolico contributo di 1000 euro sono state le associazioni Piazza del Teatro Via Cavour Massa Si Va Porta Sale e l'associazione commercianti Baia Flaminia È in programma per sabato 16 settembre dalle 16.30 alle 22 al Parco Miralfiore la festa conclusiva di Be Responsible il progetto per informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga promosso dal Comune di Pesaro l'Unione Pian del Bruscolo Prefettura, Questura, Università di Urbino e Croce Rossa Numerose le attività in programma fra tornei sportivi giochi a premio consegne di gadget esibizioni di talenti musicali delle scuole pesaresi e la degustazione del drink analcolico realizzato per l'occasione dagli studenti dell'Istituto Santa Marta E sempre al Parco Miralfiore ma esattamente fra una settimana arriva la novità di Battiti Festival prima edizione di una rassegna dedicata alla cultura dello sport che ci viene illustrata da Maurizio Radi titolare di Fisoradi Medical Center e organizzatore della manifestazione Un festival dedicato allo sport Battiti Festival e soprattutto un festival dedicato alla cultura e alla filosofia dello sport In queste tre giornate partendo da giovedì sera alle ore 20 circa ci sarà l'inaugurazione l'apertura del festival e quindi la presentazione da parte delle istituzioni Subito dopo l'apertura ci sarà la presentazione della VL Carpegna Prosciutti Pesaro e quindi ci sarà la presentazione della squadra 2023-2024 alla città Quando sarà finita la presentazione della VL a città naturalmente non sarà finita la serata ma poi ci saranno degli ospiti dopo la VL uno di questi sarà Andrea Lanfri che è uno scalatore un ragazzo che ha subito un'amputazione delle gambe di sette dita delle mani causa una meningite acuta e si è riabilitato per ritornare alla vita normale e non solo perché in queste condizioni con delle protesi alle gambe è andato a scalare l'Everest Tutto poi proseguirà venerdì 22 alla mattina ci sarà ospite al Parco Miralafiore il liceo scientifico Marconi in diritto sportivo dove i ragazzi presenteranno delle attività ma faranno anche delle lezioni abbinando lo sport alla cultura lo sport al giornalismo e poi passeremo al pomeriggio dove dalle 16 inizieranno degli spicce un po' vari che vanno da quello che possa essere lo sport a quello che possono essere magari dei servizi per lo sport e in più ci saranno sia il venerdì che il sabato le associazioni sportive e le palestre che saranno presenti per presentarsi alla città tutti quelli che passeranno per il festival poi si proseguirà il sabato più o meno con un programma come quello del venerdì che partirà alle 16 e si concluderà sia il venerdì che il sabato attorno alle 23 anche qui con ospiti importanti è giusto per fare alcuni nomi ci sarà Paolo Viverti che è un giornalista uno scrittore uno che ha seguito Giri d'Italia Tour de France e Olimpiadi ci sarà Adriano Malori un ex ciclista professionista anche lui che viene da una storia particolare quindi capite come all'interno di questi tre giorni noi vogliamo portare esperienze di sport esperienze di vita e esperienze di come vivere il ciclismo oppure lo sport a 360 gradi e ci saranno poi due atleti che fanno sport ultra cycling proprio per portare esperienze di persone che vivono lo sport per dire giorno e notte cercando di fare imprese che non sono imprese per vincere una gara o imprese per vincere una partita ma sono imprese per loro stesse imprese che poi vogliono condividere con tante persone per portare un messaggio un messaggio che possa essere motivazionale un messaggio di crescita un messaggio culturale e un messaggio di condivisione di queste esperienze che sono esperienze che loro vivono per loro per la loro famiglia ma per tutte quelle persone che poi li seguono alla fine chiuderemo il festival la domenica mattina dove la Croce Rossa organizzerà una campestre e noi come Fisorati Medical Center organizzeremo una pedalata una pedalata di un paio d'ore aperta a tutti non agonistica solo per ospiti quindi chi voglia partecipare si può iscrivere da prima del festival o durante il festival allo stand di Fisorati Medical Center e poi chiuderemo al rientro della pedalata con un buffet e un bicchiere di birra e il festival verrà chiuso alle ore 12 con visto che 24 settembre è San Terenzio con il saluto del Vescovo di Pesaro l'ingresso è aperto tutti ed è tutto gratuito quindi potete arrivare direttamente lì senza prenotazione senza niente potete accedere a qualsiasi speech e l'unica cosa come ho già detto bisogna iscriversi per chi volesse partecipare alla campestra o per chi volesse partecipare alla pedalata e chiaramente l'evento Battiti Festival sarà seguito anche dalle telecamere di Rossini TV quindi restate connessi con noi perché vi daremo ulteriori informazioni sulla modalità di partecipazione a questo evento che si terrà appunto tra una settimana esatta al Parco Miralfiore di Pesaro e invece restate ancora su Rossini TV perché questa sera vi portiamo in India un luogo meraviglioso raccontato dalla nostra TV dei viaggi alle ore 21 e 20 e poi domani mattina il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa Buongiorno Rossini leggiamo assieme a voi quotidiani locali in diretta alle 7 e 20 in diretta sul nostro canale 80 sulla pagina Facebook e anche sulla nostra applicazione e vi ricordiamo anche che domenica 17 settembre le nostre telecamere vi trasmetteranno in diretta alle ore 18 e 30 la Santa Messa per onorare la venerabilità di Padre Giuseppe Bocci e le nostre telecamere appunto riprenderanno questa messa in diretta dal Duomo di Pesaro vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni quindi io vi lascio al nostro meteo e vi do appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa Buona serata Grazie a tutti